Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sono 1.595 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.733 tamponi processati. Il tasso di positività è all'11,6% con la Sicilia che si conferma al sesto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 70.145. Oggi non ci sono guariti né vittime, quindi il totale dei decessi resta 12.126. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 342, 37 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono invece 27, 2 in più rispetto al giorno prima. Per quanto riguarda i dati a livello provinciale, stavolta è Catania, la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 319, poi Palermo con 316, quindi Messina con 280 nuovi casi Covid e poi le altre province con numeri decisamente più bassi. Cambiamo argomento, adesso parliamo di calcio. Stamane si è svolta la conferenza stampa di presentazione del calciatore rosa nero Davide Bettella. Sentiamo alcune sue dichiarazioni. Ero in vacanza e mi ha squilato il telefono con la chiamata del direttore Rinaudo. Da lì sono rimasto molto colpito da questa chiamata perché il Palermo è una piazza molto grande, molto ambiziosa per il futuro. È una piazza che quest'anno è stata acquistata dal Citigroup e lasciando stare che comunque la storia del Palermo è una storia che nessuna piazza, penso, di serbicia ha di così tanta rilevanza. Per me vestire la maglia rosa nero sarebbe stato un onore e un orgoglio, quindi parlando con il mio procuratore ho accettato subito questa trattativa che ne è uscita tre o quattro settimane fa e accettandola subito ho dato il mio sì subito al mio procuratore, alla società e alla fine sono venuto qua. Poi con la squadra ho incontrato bravissime e bellissime persone che mi hanno accolto, mi hanno fatto sentire subito a casa. Sono persone soprattutto di valore e secondo me con le giuste sistemazioni, le giuste idee che ci detta il mister e tutto quanto potremmo toglierci grandissime soddisfazioni. Dobbiamo sistemare e limare alcune cose che in queste partite non sono andate benissimo, però le idee del mister sono chiare, sono giuste e dobbiamo seguire tutti lui per poter ambire a qualcosa di grande. I palermitani, i tifosi palermitani rosa nero sono dei tifosi che penso non tutti ci abbiano, non tutti ci hanno e quindi è una forza che ci dà in più per appunto affrontare tutte le partite perché avere una tifoseria così alle spalle è qualcosa di raro e bisogna approfittarne appunto soprattutto in casa per trasformare il Barbera nel nostro stadio dove non deve vincere nessuno, non deve passare nessuno e in trasferta appunto anche a Reggio c'erano tantissimi nostri tifosi e che il fatto di vederli là allo stadio tutta la curva del settore ospiti piena fa motivo d'orgoglio per noi giocatori. Cresce l'attesa per la finale nazionale della nota Kermes una ragazza per il cinema, le ragazze finaliste sono giunte in Sicilia dalle varie regioni, per l'occasione Lucio Di Mauro ha intervistato Francesco Locci responsabile dell'Agenzia della Sardegna, sentiamolo. Primo giorno qui a Capodecresi per quanto riguarda una ragazza per il cinema, cominciano arrivare le ragazze, cominciano ad arrivare da tutte le regioni, siamo con Francesco Locci Sardegna che sicuramente è un punto di riferimento per l'Italia, ricordiamo una ragazza per il cinema e un concorso nazionale. Allora Francesco il tuo gruppo, da chi è formato, quanti ragazzi stai portando, qual è il tuo pensiero adesso a caldo? Allora innanzitutto ciao, il mio gruppo mi sono portato una parte dello staff che ormai da anni mi segue perché comunque ci sono tante cose, è sempre bello imparare cose nuove. ragazze, sto portando dieci ragazze, speriamo di fare una bella figura però per me l'importante è che loro siano felici, facciano comunque si comportino bene e abbiano comunque la voglia di mettersi in mostra, è un gioco ma può darci delle soddisfazioni. Dobbiamo dire che Francesco fa parte anche di un'agenzia che si muove 360 gradi sempre, tutti i mesi, l'intero anno, quindi non ti fermi soltanto una ragazza per il cinema. No, 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 hai detto bene, ho un'agenzia, un'agenzia di moda e spettacolo, quindi noi a 360 gradi, diciamo 365 giorni all'anno siamo in movimento, a parte dieci giorni, quindici giorni che giustamente dobbiamo riposarci per caricare, per capire da che punti, diciamo ripartire però, diciamo che abbiamo un bel lavoro da fare in tutto l'anno. Stamane si è svolto una sit-in di protesta all'Università di Palermo contro i test d'ingresso alla Facoltà di Medicina, protesta organizzata dal Laboratorio Studentesco Autonomo. La pandemia non ha insegnato nulla stop ai test d'ingresso, si legge in uno degli striscioni appesi di fronte all'edificio 19 di Viale delle Scienze. Due anni di pandemia, spiega Giovanni Castronovo, dovrebbero aver dimostrato a tutti quanto il nostro sistema sanitario sia inadeguato, mancano i fondi, la strumentazione e soprattutto il personale sanitario. Eppure ci ritroviamo ancora con il numero chiuso che ogni anno impedisce a più di 50.000 aspiranti medici di esercitare il proprio diritto allo studio per poi garantire a tutti il diritto alla salute. A Palermo quest'anno sono disponibili 475 posti a medicina, una miseria che costringerà migliaia di ragazzi a iscriversi in altre facoltà, a emigrare o addirittura a non frequentare l'università. E sull'argomento si è espresso l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, lo ha fatto attraverso un post sul proprio profilo Facebook. Va in scena il test per l'ammissione a medicina, ha scritto Razza. Noi da sempre siamo contro il numero chiuso, il sistema migliore è quello di consentire a tutti l'accesso e poi fare il filtro dopo il primo anno. Ma non siamo stati con le mani in mano, abbiamo lavorato per avere più facoltà di medicina, la seconda di Messina e quella della Core di Enna, per dare più opportunità ai ragazzi siciliani. Tra poche settimane, scrive ancora Razza, ci sarà un nuovo governo. Io la penso come Giorgia Meloni e Nello Musumeci, abolire il numero chiuso subito. Questo dunque il pensiero dell'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza. Ed ora parliamo di emergenza migranti, in questo caso però la notizia non arriva da Lampedusa ma da Pantelleria, dove sono approdati nella giornata di ieri, in pochissime ore, 5 sbarchi con 40 persone a bordo, persone arrivate con gommoni e piccole imbarcazioni che sono approdate in diversi punti dell'isola. Attualmente nel centro di prima accoglienza ci sono 110 ospiti. Quest'anno a Pantelleria, attraverso il canale di Sicilia, sono già arrivati 3.300 migranti, superando così il dato dell'intero 2021, quando sull'isola approdarono circa 2.500 persone. Ancora cronaca, ci spostiamo adesso a San Cataldo. Siamo quindi in provincia di Caltanissetta. I carabinieri stanno indagando su una serie di denunce presentate da alcuni cittadini che avevano prenotato dei pacchetti viaggio in un'agenzia di San Cataldo, senza poi poterne usufruire perché le prenotazioni non risultavano. Alcuni clienti dell'agenzia avevano prenotato pacchetti vacanze, salvo poi rendersi conto che dalla prenotazione fatta non vi era più traccia. Quanto acquistato inoltre non sarebbe stato rimborsato. Adesso toccherà ai carabinieri capire se sia stata messa in campo una vera e propria truffa. Parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti, ci spostiamo nel Ragusano, per la precisione a Scicli, dove un uomo è finito in mainette poiché è stato trovato in possesso di oltre due chili di marijuana ed è stato denunciato anche il fratello. Prosegue a Scicli l'attività dei carabinieri della compagnia di Modica volta a prevenire e reprimere ogni forma di reato. In tale contesto è stato predisposto un apposito servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti. Il servizio, condotto con il prezioso supporto delle unità cinofile e dei colleghi a quattro zampe, Ivan e King, è stato concentrato a Scicli, città iblea particolarmente bersagliata di recente, da fenomeni di degrado urbano legati soprattutto all'abuso di alcol e alla vendita e consumo di sostanze stupefacenti. Lo sforzo dei militari dell'arma ha permesso di arrestare un 58enne originario di palagonia, pescatore e censurato. L'uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre due chili di marijuana. La sostanza, rinvenuta all'interno di un fusto parzialmente sotterrato nel giardino della Villa dell'Uomo a San Pieri, era già suddivisa in oltre 34 buste termosaldate per la vendita. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato colpito dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella medesima cornice operativa, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia a piede libero, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, del fratello dell'arrestato precedentemente menzionato. Questi, 53enne, originario di Palagonia, pescatore e censurato, è stato trovato in possesso nella sua abitazione a Cava Dalliga di una pianta di marijuana alta circa 300 centimetri, ricca di infiorescenze e pronta a essere raccolta. Il servizio è poi proseguito nel centro storico di Scicli, in particolare a Piazza Italia e Largo Gramsci, dove i militari hanno proceduto al controllo di persone e mezzi. Nell'occasione sono stati rinvenuti anche 15 grammi di ascisce tra le aiuole della piazza, stupefacente, verosimilmente abbandonato da uno spacciatore all'arrivo delle forze di polizia. A Catania, un 55enne ristretto agli arresti domiciliari durante un controllo da parte dei carabinieri, è stato trovato in possesso di droga ed è stato ovviamente arrestato. I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del XII Reggimento Sicilia, sono stati impegnati in un servizio a largo raggio di controllo del territorio, volto al contrasto dell'illegalità diffusa nelle aree periferiche della città e in particolare del quartiere di San Giovanni Galermo. I militari hanno proceduto al controllo di diversi soggetti sottoposti a misure restrittive, tra i quali un pregiudicato 55enne catanese, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di droga ai fini di spaccio, il quale, alla vista degli operanti, ha temporeggiato nell'aprire la porta di casa, poiché intento a disfarsi di alcune bustine in cellofan contenente dello stupefacente, lanciate dalla finestra posta sul retro dello stabile. Tale diversivo non ha tuttavia colto di sorpresa i carabinieri, che avendo compreso cosa stesse accadendo, si erano subito posizionati in osservazione attorno alla palazzina, riuscendo immediatamente a recuperare gli involucri gettati. Sono stati pertanto rinvenuti 43 grammi di cocaina, 3,60 grammi di crack e 40 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione. Si è quindi proceduto alla perquisizione dell'abitazione, all'esito della quale è stato trovato ulteriore materiale strumentale allo spaccio di droga, ossia bustine per il confezionamento delle dosi, due walkie-talkie e 550 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Noto su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. Ad Adrano, siamo sempre nel Catanese, un uomo si era addirittura munito di dispositivo GPS e binocolo per poter osservare e continuare a perseguitare l'ex fidanzata. È stato però arrestato. I carabinieri della stazione di Adrano hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato quarantenne brontese per atti persecutori e violazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono tempestivamente intervenuti nel centro cittadino di Adrano, dove l'uomo, visibilmente innervosito e nonostante la presenza degli operanti, stava suonando con insistenza al citofono di una palazzina, pur non ricevendo alcuna risposta. I militari hanno quindi chiesto contezza del comportamento molesto al quarantenne, che tuttavia ha iniziato ad agitarsi senza addurre delle motivazioni coerenti circa la sua condotta. Avviati pertanto i necessari approfondimenti, è stato appurato che il soggetto era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria ex compagna, che abita proprio in quello stabile e alla quale stava citofonando. A quel punto, proprio l'ex fidanzata, sentendosi tutelata dalla presenza dei carabinieri, è scesa in strada, raccontando ai militari di essere stata vittima di atti persecutori da parte di quell'uomo, nei confronti del quale aveva sporto una denuncia. Ad aggravare ulteriormente la posizione dello stalker è stato poi il rinvenimento nella sua automobile di un dispositivo GPS e di un binocolo, materiale chiaramente strumentale a spiare la vittima. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Era l'ultima notizia, a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS